in una splendida mattina di maggio dalla casa sua usciva di nolfi gambizzato veniva sul posto da una mano vindice crucial l'uomo mite padre di famiglia urlo ai barbari so chi vi manda certo spuria genieva appartiene chissà cosa voleva insinuar i malfatti autori di tragedia furono tosto a settembre scovati e fin anche con l'ena arrestati dichiararono la loro cagione terroristi ci dite briganti ma nessuno noi abbiamo ammazzato quanto sangue ha invece versato l'atomico progresso social la di nolfi non ha la coscienza e si sfama con pena degli altri lui sorride e come noi tanti dicono d'esser brave person il ferito che non era grave sorrideva sulla carrozzella questa faccia di bronzo e di guerra resta ancora al suo posto d'onor l'atto semplice puro e verace verso il radioattivo sciamano gli anarchisti hanno rivendicato e galera per essi arrivò e tu popolo che ancora rispetti questi boia mercanti di morte quando verrà la crudele sorte sarà tardi per l'insurrezion perché stato industrie e veleni sono da sempre i nostri oppressori con gli eserciti e con le catene rubano l'aria la terra ed il sol e voi cello no no Grazie.